Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Ify e faccio parte di OmegaFamily. Oggi siamo su Roblox a protestare per il no a razzismo, perché stanno succedendo tantissime cose brutte in questo periodo. Quindi io ringrazio proprio a tutte le persone che hanno donato, eccetera. Ringrazio anche la persona che ha messo su Roblox questo giochino qua per la protesta. Quindi divertitevi, cioè qua non facciamo niente, però stiamo solo protestando. Qua, come potete vedere, c'è la Casa Bianca e poi ci sono le polizie, eccetera. Vi ricordiamo che stiamo facendo giveaway di account con mille follower su TikTok. Quindi se volete partecipare dovete solo seguire questi passaggi, iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare like ai nostri video e commentare con qualcosa di carino. Stop al razzismo ragazzi, bianco e nero, differenza zero. Vi ricordiamo che questa domenica uscirà la parte 3 della ladra, quindi vi vogliamo tutti attivi. Un bacio, spero che questa discussione vi sia piaciuto. Un bacio, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, iscrivetevi al canale.